Ti ho chiesto un giorno, insegnami la numerosità dei numeri, la geometria piana dei sentimenti, la direzione del tempo. Ma io, tu mi hai risposto, conto ancora con le dita della mano sinistra, copio l'amore dei bambini e sento il tempo soprattutto da fermo. Come il primo bacio, la prima interrogazione di filosofia, il primo vagito del ventre, l'ultimo saluto, quello dato di fretta sulle scale. Che lì sono la numerosità dei numeri, la geometria piana dei sentimenti, la direzione del tempo.